Sì, è un'idea che è nata insieme con Sergio Giuliani, che è l'organizzatore di Rock in Roma, i concerti che facciamo qui nel periodo estivo. Ne abbiamo parlato per un po' di tempo. Noi avendo qui, tramite Emilio Minunzio, dell'ASI, già l'attività sportiva dei poni per i ragazzi, avevamo quindi il materiale animale disponibile per fare questa iniziativa, ne abbiamo parlato con lui, abbiamo assoldato lui come partner tecnico dell'iniziativa e siamo partiti. L'idea, quindi tecnicamente, è stata facile realizzarla. Il motivo di questo connubio tra Capannella e Rock in Roma è perché sia noi che loro siamo molto sensibili all'inserimento della struttura dell'ipodromo, dell'impianto sportivo comunale all'interno del tessuto cittadino e noi crediamo che con questa iniziativa di forte valenza e carattere sociale riusciamo ad inserire l'attività dell'ipodromo all'interno del quartiere, della città, proprio perché questi ragazzi con una disabilità sociale, portatori di handicap, eccetera, trovano un momento di formazione e di svago sportivo e culturale all'interno della nostra struttura che è di proprietà di Roma Capitale e quindi deve essere evocata anche a queste attività. Integrare le attività strettamente legate al mondo elettrico con le attività ecologiche, questo sia perché l'ippica ha degli impianti importantissimi che non possono non dimensionare il nodo di Capannella all'interno del quale tra l'altro abbiamo il nostro centro di riferimento nonché di formazione in scuola di militropia e di carottura, ma soprattutto proprio appunto per l'attività giovanile, ecco l'ippica non ha un'attività giovanile, quindi un divaio dove poter poi come dire andare a recuperare, quindi dovrebbero essere domani pure campioni, driver o spazio che siano quindi già da tanti anni abbiamo investito in questa direzione e è un qualcosa che mi piace sottolineare perché dimostra come l'ente di conoscenza sportiva può dare chiaramente un valore aggiunto alle attività sportive. Allora nel dettaglio noi avviamo direttamente questi ragazzi ad una vera e propria attività sportiva quindi a partire dalle attività a terra di grooming, di accudimento, sellaggio e bardatura dei cavalli per poi andare alle attività in sella. Tutte finalizzate allo scopo sportivo vero e proprio tanto che noi contiamo di inserire questi ragazzi entro breve in un circuito sportivo di gincana e dressaggio la cui particolarità è quella che potranno concorrere naturalmente insieme ad utenti normodotati si tratta quindi di gare assolutamente integrate, è un compartimento creato dall'ASI che in questo momento sta avendo un suo momento d'oro per i numeri, è un riscontro di pubblico molto importante in cui i ragazzi appunto si trovano a partire in categoria insieme a ragazzi normodotati, questo perché diciamo la discriminante è sulle qualità tecniche indipendentemente da quelle che possono essere le peculiarità legate a una disabilità oppure no. La giornata organizzata dall'ASI è questa nel suo sforzo, infatti si sono assiorati 200 ingressi Allora questo progetto devo dire che io sono una nuova intuente quindi questo progetto mi ha insegnato tantissimo, lo rifarei per altri centomila volte quindi è un progetto bellissimo e amare il cavallo è una cosa veramente bella, bello, è la prima volta che faccio cavallo e lo vorrei rifare e mi stimola tanto Benissimo, ho fatto gare i vecchi anni e sicuramente in questi anni qui con questo progetto ne li faremo altre e siete tutti invitati Allora noi siamo felicissimi di questo progetto, la mia ragazza già aveva fatto un'attività per dieci anni poi avevamo sospeso per una serie di motivazioni, adesso cioè no felici di più di aver potuto riprendere poi Capannella al centro di Roma insomma tutto benissimo, proprio felicissimo Benissimo, è una bellissima esperienza perché permette a loro di provare delle emozioni nuove e superare un po' i loro problemi Penso che sia un'iniziativa stupenda Damiano è contentissimo di partecipare e il cavallo per lui è come se fosse la sua continuazione proprio praticamente si muove e l'aiuta sia fisicamente che mentalmente Che altro dire in più di quello che hanno detto loro? Basta guardare il sorriso dei ragazzi, l'entusiasmo e la voglia che arrivi subito il venerdì Più di questo non credo ci sia altro da dire insomma è un'esperienza stupenda per loro, per noi perché il rapportarsi dei nostri ragazzi a quelli che sono diciamo gli animali in generale in questo caso il cavallo e poi rapportarsi con noi a casa nel raccontare tutta la loro esperienza Ciao!